Sono stati convalidati due fermi con ipotesi di reato di omicidio premeditato a carico del diciassettenne e della fidanzata di 26 anni, catturati verso le 22.30 di giovedì dopo l'omicidio del padre del primo, Edis Cavassa, 45 anni, avvenuto al cosiddetto campo nomadi di Viale Risorgimento, a Santa Polinare, un gruppetto di roulotte a fianco di una casa diroccata che sorge a lato della provinciale, sulla sinistra, poco dopo l'abitato per quanti proseguono verso Ceregnano. L'uomo sarebbe stato ucciso, secondo i primi riscontri, da un colpo di macete all'altezza della clavicola, vibrato dal diciassettenne, il figlio. La procura, nella persona del sostituto Maria Giulia Rizzo, che coordina gli accettamenti della squadra mobile, guidata dal commissario capo Gianluca Gentiluomo, ipotizza però un ruolo attivo anche per la 26enne, Annalisa Guarnieri, che da circa quattro mesi conviveva con il diciassettenne in una delle roulotte del campo. La giovane, secondo questa tesi, avrebbe procurato il macete usato per l'aggressione mortale, avrebbe rafforzato la determinazione del ragazzo ad agire e, nel corso dell'aggressione, a propria volta impugnando un macete, avrebbe tenuto sotto scacco e minaccia i familiari del 45enne per evitare intromissioni. Dopo l'uccisione, la coppia sarebbe poi fuggita in auto verso Ceregnano, venendo arrestata poco dopo, però. Recuperato nella roulotte della coppia uno dei due macete, pare quello usato solo a scopo di minaccia, mentre quello utilizzato per colpire ancora non si trova. La coppia se ne sarebbe disfatta passando in auto sull'argine del canal bianco, avrebbe anche spiegato agli inquirenti dopo la cattura in che punto, ma della lama nessuna traccia. Entrambi i giovani sottoposti a fermo nella serata di giovedì hanno poi già sostenuto l'udienza di convalida del fermo. Entrambi hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice ed è stata confermata la custodia in carcere. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori per i 17enne e da quello del Tribunale ordinario per la 26enne. I due sono difesi rispettivamente dagli avvocati Alberto Zanier di Dolo e dall'avvocato Sandra Passadore di Adria. Nella mattinata di lunedì 8 febbraio intanto nuovo sopralluogo degli inquirenti al Campo Nomadi per raccogliere ulteriori riscontri. Vi hanno preso parte gli investigatori della mobile guidati dal commissario Alessandro Coltro e i colleghi della scientifica. Un altro accurato lavoro investigativo e di repertazione per supportare e confermare la ricostruzione degli eventi sinora eseguita. Il tutto con la professionalità e l'attenzione che fanno parte del patrimonio del personale della questura. Ad avviso degli inquirenti la vicenda appare ormai sufficientemente convalidata nel proprio evolversi. Molto si giocherà piuttosto sul piano processuale sulla contestazione della premeditazione. Premeditazione che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata negata in prima battuta dal giovane. Determinante in questo senso potrebbe essere il risultato dell'autopsia che verrà disposta dalla procura nella giornata di mercoledì 10 febbraio e che vedrà il medico legale analizzare la ferita mortale. Si dovrà capire se vibrata con intento omicida o se, magari, frutto di un accidente nel corso di una collutazione.